Buongiorno ancora, a prescindere che non fa niente del messaggio che non mi hai mandato, non fa niente che mi sono svegliato 7-8 volte per essere arrivato il messaggio e non arrivava mai, vabbè non fa niente, poi ho capito che qualcosa, io sinceramente pensavo che ti fossi addormentato, però mi sono svegliato una decina di volte, se proprio non vuoi sapere stanotte, per vedere se sto cazzo di messaggio è arrivato, e poi è arrivato stamattina il messaggio della buonanotte, vabbè comunque la ricetta è questa, bisogna assolutamente uscire dall'ospedale, ma io dico di uscire pure un giorno, pure mezza giornata, perché hai bisogno di respirare aria esterna, e loro lo sanno, anche i dottori lo sanno, che hai bisogno di ossigenarti, capito cuore? Quindi, quando viene il dottore, inizia a rompergli le palle, dirgli dottore ma quando mi fate uscire, un giorno, due giorni al massimo, perché ho bisogno di cambiare aria, perché il fatto di stare sempre là, in quel luogo, costantemente, porta comunque a delle sofferenze psicologiche, capito cuore? Quindi questa, secondo me, è la ricetta migliore, ok? Perché dobbiamo entrare e dobbiamo uscire, dobbiamo entrare e dobbiamo uscire, fino a quando non usciamo totalmente, capito cuore mio? Senti, no, Lanto mi ha chiamato stamattina, cioè l'ho chiamata io, ha detto che tu l'hai chiamato, e l'hai chiamata, e ha detto che ti ha sentito un po' meglio di dire. Comunque, mo' tralasciando tutte le cose cattive, che sono successe in questi giorni, in questi paio di giorni, dobbiamo cercare di fare proprio questo, di rompere i coglioni al medico, perché deve farti uscire, assolutamente, perché ti devo portare al bar a prenderti la brooche, perché dobbiamo andare a mangiare, perché dobbiamo iniziare a vivere. Un'extra, io penso che ci possa stare, certo, non è che ci dobbiamo abbuffare cuore mio, però qualche cosa di diverso la dobbiamo fare. Visto e considerato che quel, non lo so come definirlo, non dice ancora al dottore di farmi entrare, e allora a questo punto devi rompere le palle al dottore per dirgli fammi uscire, un giorno, due giorni, fammi uscire, come un'altra volta. Capito cuore? Non lo so, come se vedevo una zanzara gironzolare sui capelli, vedi quel puntino là, invece è un buco che sta sul muro. Va bene cuore? Beh, io ho fatto colazione, stamattina mi sono seduto sul marciapiede, a piede, vedi, per terra. Eh sì, così sto comodo a farti il video. Ma io voglio, dai, dai che ce la facciamo, eh. Va bene? E stampami un sorriso, stampami un sorriso. Fammi vedere quella faccia sorridente, quella faccia di mio fratello che ride, che sorride alla vita. Questo è quello che voglio vedere. Lo so che non è che lo devo fare col telecomando, deve essere una cosa che ti viene da dentro spontanea. Va bene? Non mi far fare il pagliaccio per farti ridere. Va bene? Beh, voglio, mo' mi vado a fare un caffettino e poi vado al lavoro. Sto cazzo di corso online mi sta rompendo le palle. E niente. E ricordati che stasera sono lì da te. Va bene? Beh. Un bacio, un cuore e un abbraccio. A tu. Ciao, cuore mio. Ciao. Grande giornata oggi, dai, forza, eh. Ciao.